Io che cosa vi direi? Che non ero mai stato così felice. Quello che voglio dire è che ognuno di noi ha il suo personale punto di vista e ogni scelta che prendiamo, ogni riga di dialogo che scriviamo, ogni inquadratura che giriamo, riflette quel punto di vista. Sposiamo quel punto di vista e diciamo la nostra verità come la conosciamo.